buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi oggi è venerdì 21 agosto questo il canale 17 di fano tv e la rassegna stampa occhio ai giornali che comincia come di consueto con il santo del giorno poi vedremo le previsioni del tempo i giornali allora il santo di oggi è sampio decimo papa il sole sorto alle 6 21 tramonterà alle 20 e 06 allora abbiamo il tempo il tempo sul nostro touchscreen avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature in aumento eventi a regime di brezza il mare è quasi calmo al più insomma poco mosso ma insomma oggi e domani come vedete dalla grafica della protezione civile militare della protezione civile delle marche il tempo sarà soleggiato buono fino a domenica 23 di agosto con soltanto qualche nuvoletta al pomeriggio l'approfondimento però sull'italia centro settentrionale di una debole saccatura di origine atlantica lungo il ramo discendente dell'anticiclo dell'azzorre determinerà durante la giornata di lunedì un temporaneo peggioramento delle condizioni ma insomma qui a lunedì perché dobbiamo preoccuparci intanto godiamo queste tre belle giornate di sole così come testimonia anche il nostro tommy che è arrivato di corsa t'ho beccato perché prima della diretta ancora eri in camera da letto e fatto tutta una volata però si è arrivato in tempo per il collegamento bravo tommy bravo tommy ligio al dovere allora come va benissimo benissimo tra l'altro stamattina c'è una brezza un pochettino più tece del solito è veramente gradevole bene allora oggi abbiamo una giornata di sole mare calmo quindi giornata di mare sono le ultime giornate di mare ma le ultime giornate insomma adesso proprio ultime se l'estate prosegue fino a settembre fine settembre ancora c'è chi va al mare ancora per parecchie settimane voi quando smontate tutto quando smontate tutto se ripetiamo le tempistiche solite considera che il semplice di sabbataggio termina più o meno verso il 13 di settembre quindi generalmente aspettiamo di finire il salvataggio poi piano piano con calma e anche in base al tempo cominciamo a smontare così tanto poi comunque il mare sta lì e non lo porta via nessuno grazie tommy buona giornata e grazie a voi buona giornata purtroppo questo momento di di larità questo momento di spensieratezza anche con queste belle immagini di sole e di mare le interrompiamo con con lettura dei giornali abbiamo tre pagine di incidenti tra cui uno un assolutamente terribile un incidente che è accaduto a senigallia dove vittima è un bambino di sei anni ci arriveremo andiamo a vedere le pagine intanto dei quotidiani il ieri adriatico il resto del carlino cominciamo da qua da pesaro con intanto la notizia che il comandante dei vigili si dimette decise decisive le critiche del sindaco riccia galdenzi sulle follie in spiaggia ferragosto gli subentra francesca muzzini a centro pagina il virus uccide la fiera troppi pericoli di contagio il comune di pesaro ha deciso di annullare la fiera di san nicola ma si è messa un po si è messo un po in scia con sulla scia anche degli altri comuni fano e senigallia mentre in piazza del popolo a pesaro in concerto dedicato a zagor morto di covid alla mostra del cinema e poi stasera florezza al rossini bilancio del roff numeri eroici nonostante tutto ha vinto la musica e poi il tutor quello tra fanno e pesaro che macina 15 multe ogni giorno la se le sanzioni partono da 50 euro ciascuna mentre l'altro tutor quello installato sulla monte labattese fa strage lo stesso con l'autovelox baby bulli e rapinatori due finiscono in manette i sedicenni imperversavano in città da mesi cinque le vittime di loro colpi altri quattro gli indagati poi c'è lo sport sempre in prima pagina con la serie c vis stramaccioni e bianco rosso e tra i pali del fano arriva a santarelli l'all basket filloi ha firmato il debutto sarà in casa nella prima di campionato contro il sassare andiamo a vedere adesso invece la prima pagina del correre adriatico festa in spiaggia si dimette galdenzi questo è il titolo d'apertura la decisione dopo l'attacco del sindaco per i controlli tardivi a ferragosto al suo posto francesca muzzini tutte le sigle sindacali a sostegno del comandante della polizia locale e le sigle dicono atto di dignità contro l'arroganza l'arroganza è quella del sindaco a centro pagina tornano i binari a zizzaghe la fotografia che vi abbiamo mostrato e che il corriere ha pubblicato qualche giorno fa un altro anno se va bene dunque per raddrizzare questi binari interrandoli nel tratto che va appunto da falconare ad ancona il gioco dell'oca per l'interramento della flaminia poi sotto presa una baby gang coetani aggrediti per essere rapinati niente san nicola a pesero decisione unanime sull'annullamento e a cartoceto scontro tra auto e moto grave un centauro trasportato a torrette sulla questione politica e le amministrative le regionali quando il movimento 5 stelle era disponibile ma il partito democratico blindò mangialardi un retroscena di qualche settimana fa quando appunto invece le cose erano andavano in maniera diversa ed era il movimento 5 stelle che andò a bussare al partito nella porta del partito democratico era giusto il calendario della vl carpegna comincia con sassari filloi ha detto sì ora forse serve un lungo straniero la lega basket valida dunque l'anticipazione sfuggita come dicevamo ieri sul web e adesso andiamo nelle pagine interne come dicevamo la cronaca e partiamo dalla pagina di senigallia scontro schianto contro il camion dei rifiuti muore un a sei anni in auto con il papà questo è il titolo e la fotografia di questo angelo di sei anni che adesso è in cielo incidente sulla strada della bruciata il padre andava a lavorare portava il figlio dei nonni erano partiti da monterado di tre castelli dove la famiglia senigallese si era trasferita da qualche tempo poco dopo la curva dell'ex snoopy in località cesano l'utilitario la macchina ha impattato violentemente contro un camion dei rifiuti parcheggiato a bordo strada questa è la foto di christian christian durazzi sei anni e questa è la scena terribile che si è presentata ai soccorritori con la fiat 500 del papà di christian che come vedete ha urtato dopo l'urto con il camion parcheggiato sulla strada parcheggiato insomma stava lì stava evidentemente lavorando adesso chiaramente bisognerà capire se quella sosta poteva essere fatta meglio insomma tutte cose che con sé insomma che non riportano certamente le cose indietro e l'orologio indietro ma comunque adesso si parla sotto sempre con l'articolo di sabrina marinelli di questo bambino adorabile siamo distrutti la mamma romina lavorava lavora al bar gallery al centro commerciale delle saline mentre il padre giacomo all'officina della concessionaria frulla alla cesanella una copia molto conosciuta in città siamo distrutti ha detto l'imprenditore giordano frulla titolare appunto di questa concessionaria c'è stato un altro incidente questa volta a lucrezia di cartoceto siamo a ponte morello all'ingresso insomma al confine tra fano e lucrezia si schianta contro un'auto grave un giovane motociclista frontale a ponte morello la yamaka prosegue la corsa e finisce sotto una finestra la finestra è quella che il giornale pubblica in questa fotografia il leso invece il conducente della vettura anche lui molto giovane intorno alle 11 di questa di ieri mattina questo scontro assai violento fra questa moto 600 è una mini cooper al volante di quest'auto c'era un giovane di 21 anni e quel tratto della flaminia come scrive è raccolto come informazione osvaldo scatassi sul posto è considerato pericoloso e questi sono tutti segnali segnalati questi questi casi questi incidenti piuttosto frequenti torneremo un attimo indietro su questa pagina perché c'è un'altra notizia ma andiamo al terzo incidente questa volta a marotta abbiamo detto il primo alle 8 poi alle 11 e adesso il terzo a mezzogiorno qui siamo sulla strada provinciale 424 in auto si mette sulla pergolese c'entra in pieno un motociclista la ragazza al volante ha seguito l'indicazione di un camionista che la invitava ad attraversare spesso succede no questi bisonti che stanno in mezzo alla strada che ti fanno cenno di attraversare come se fossero a dirigere il traffico tu non ci fai caso dai retta parti senza guardare né a destra né a sinistra come ha fatto questa ragazza che viaggiava a bordo di una opel lei ha 20 anni insieme al fidanzato erano sono qua in vacanza sulla riviera adriatica lei ha visto questo camionista ha detto dai attraversa lei ha attraversato senza guardare e ha centrato questo giovane che guidava lo scooter si è ferito alle gambe questo giovane di 29 anni sì si è fatto male però insomma non è in pericolo di vita però immaginate sotto shock la ragazza che stava di 20 anni che stava al volante 20 anni sono poco un incidente come questo crea soltanto shock e quindi ha cominciato a piangere a disperarsi insomma la scena non è stata un granché e la racconta Jacopo Zucchere questa mattina tra l'altro tra i primi soccorritori anche Luciano Seri presidente della Croce Rossa del Comitato Locale di Marotta e poi un calciatore del Mondolfo Luca Travaglini torniamo indietro dicevamo dell'altra notizia sulla pagina della Valle del Metauro andiamo a Fossombrone perché il giornale riporta il pensionamento di Don Giancarlo l'abbraccio della comunità dopo 25 anni da parroco di Maria Ausiliatrice continuerà il suo mandato come collaboratore pastorale a San Lorenzo in campo e tutta la comunità lo ha salutato domenica al termine della Santa Messa Don Giancarlo Carboni lo vedete in questa immagine pubblicata sul giornale di questa mattina adesso parliamo invece dei contagi qui c'è un altro problema il problema che volano questi contagi l'età media cala a 30 anni così come scrive il Carlino questa mattina rimbalzo prevedibile con il rientro dalle ferie dice Cricelli, Cricelli è Claudio Cricelli presidente della Simg ovvero della società italiana di medicina generale e dei medici di famiglia dice il virus si sta diffondendo diffuso dai giovani difendiamoci con mascherine e distanziamento intanto l'istituto superiore di sanità rassicura molti sono asintomatici e tra le varie risposte che dà appunto Cricelli in questo articolo allora la domanda è la situazione oggi è gestibile dice il presidente del comitato tecnico scientifico del ministero la risposta dicelli è la prova che ci attende riguarda la scuola avremo presto 8 milioni di alunni e 2 milioni di docenti che rimetteranno in moto questo virus penso a quel che potrebbe accadere al rientro a casa perché i casi tracciati cosiddetti positivi asintomatici vanno tenuti separati dagli altri che si possono ammalare quindi potete immaginare la gestione il lockdown familiare dove bisognerà poi eventualmente non far finta di niente come qualcuno fa e quindi finché sta bene c'è un po di febbre comunque fa quello che vuole no in realtà bisogna anche in questo caso metterlo in isolamento e stare lì buono tranquillo abbiamo anche proposto dice alla domanda come vi state attrezzando in vista dei primi freddi lui risponde abbiamo anche proposto al ministro e ministri a solina quindi dell'istruzione e speranza della salute di offrire ai medici in pensione su base volontaria gratuita la possibilità di partecipare alle iniziative di prevenzione nei plessi scolastici il corriere adriatico dalle vacanze alla quarantena altri sei marchigiani contagiati casi di rientro da spagna malta e grecia civita novese scoperto a fiumicino l'età media dei contagi continua ad abbassarsi per il corriere qui siamo sui 35 36 anni mentre il carlino azzardo un po di più e scende ancora a 30 dunque dunque a rientro in italia ormai lo sapete tutti sono obbligati a fare il tampone soprattutto quelli che hanno soggiornato in uno dei quattro paesi europei messi nella lista nera del ministero della salute a malta è stata contagiata una persona residente nel fermano e in grecia una del maceratese infine un uomo di civita nova di ritorno da una vacanza a ibiza è risultato positivo quando è atterrato con l'aereo a fiumicino ed è stato sottoposto ai controlli azzolina il ministro dell'istruzione come dicevamo ai presidi delle scuole sì allo scudo ma attenzione la novità è questa mascherina giù durante le lezioni chi è seduto al banco può abbassarla ma intanto mancano ancora le linee guida del ministero e questo già cambia un po le cose rispetto a quello che ci siamo detti ieri cioè del fatto che insomma un genitore che deve mandare i propri figli a scuola con la mascherina tutto quel tempo anche stando seduti insomma lì molti avevano cominciato a storcere il naso oggi invece si apprende che chi è seduto quindi il bambino che sta seduto una volta che è arrivato al suo posto può abbassarla e quindi ascoltare la sua lezione oppure fare il suo intervento se interrogato senza mascherina e quindi questo già cambia un po le cose da ferragosto sono stati eseguiti oltre 700 tamponi un lavoro a pieno ritmo e tempi rispettati il dirigente dell'area vasta 1 carlotti dice tutto il personale coinvolto in un grande sforzo professionale hanno passato un ferragosto al lavoro ad eseguire tamponi al drive test al codma di fano ma anche la sera precedente di vigilia e il giorno dopo di domenica poi ancora lunedì martedì mercoledì insomma davvero sono giorni caldi anche sul fronte dei tamponi 700 tamponi le ha contabilizzati tutti il dottore Eugenio Carlotti che è il coordinatore dei servizi di sanità pubblica del dipartimento di prevenzione dell'area vasta numero 1 e dice non è finita stiamo lavorando a pieno ritmo 7 giorni su 7 ognuno di noi è coinvolto per le ferie sono qua al lavoro come tanti altri quindi la parola ferie è bandita evidentemente non non è contemplata in quest'anno già chiamata la coppia che aveva detto di non essere stata contattata rientro dalla croazia una segnalazione che ieri aveva fatto il corriere adriatico dunque si è sbloccata anche questa situazione e dunque tutto davvero sotto controllo mentre andiamo sulla pagina di fano del carlino trovato positivo a torrette sanitaria a rischio è un fanese era il pronto soccorso dove è stato visitato prima del ricovero adesso c'è il timore ovviamente per chi è entrato in contatto a contatto con lui e quindi un po' tutti quelli che l'hanno visitato lui era ad ancona al torrette perché doveva trasferirsi all'ancisi per una questione di seria aritmia è un paziente che ha problemi insomma con il cuore è stato visitato prima del trasferimento appunto all'ancisi al torrette ma il tampone pre ricovero come si fa sempre con tutti adesso è risultato positivo e quindi c'è stato un attimino un po' di preoccupazione aveva deciso di farsi portare ad ancona perché da anni era seguito dagli specialisti del cardiologico appunto l'ancisi questa invece è la pagina di peso del corriere adriatico troppi rischi annullata alla fiera di san nicola decisione sofferta ma inevitabile la scelta della giunta di non tenere la storica fiera vede d'accordo anche conf commercio e conf esercenti poi come abbiamo già detto i no della fiera di san nicola di pesero seguono di pochi giorni i no anche della fiera di san bartolomeo di fano e di san nicola se non ricordo male il santo è nicola quello di sinigallia quindi un po' in linea con tutti gli altri intanto l'altra notizia sempre sul corriere al parco miralfiore la polizia locale trova e sequestra sette dosi di eroina ecco quindi continua nonostante i controlli mirati al parco miralfiore continuano a spacciare droghe senza problemi grillini partito democratico grillini pd altro che alleati volano gli stracci mercorelli del 5 stelle noi dice non siamo cani che stanno buoni per cinque anni grazie a qualche osso risponde gostoli del pd il movimento 5 stelle nelle marche e in mano ai fanatici dunque la soluzione boccia voto di giunto ma nelle marche il sistema elettorale non lo prevede e quindi niente voto di giunto e di fatto possiamo dire a questo punto che se prima c'era una piccola fiammella accesa ancora con qualche speranza per i più ottimisti che i grillini potessero fare l'accordo con il partito democratico nelle marche in realtà ormai possiamo dire che anche questa piccola fiammella si è spenta e quindi ognuno va per conto suo a pesaro c'è un problema sul quale si sta discutendo in queste ore tanti malumori per le parole espresse sui social dal sindaco Ricci nei confronti della polizia locale che doveva e qui parliamo delle feste di Ferragosto doveva intervenire per disperdere le persone assembrate davanti ai locali ebbene il comandante Gianni Galdenzi non l'ha presa bene questa uscita di Ricci sui social e dunque dopo qualche giorno sofferto con tanta amarezza ha deciso in modo dignitoso di rassegnare le proprie dimissioni e dunque la decisione dopo l'attacco del sindaco per i controlli tardivi di spiaggia Ferragosto e al suo posto arriva Francesca Muzzini eccola qua la nuova comandante che ha scelto appunto il sindaco Matteo Ricci al posto di Gianni Galdenzi la solidarietà è un'altra vittima dell'arroganza di Ricci scrive Nicola Baiocchi di Fratelli d'Italia la mia solidarietà al comandante che ho avuto modo di conoscere e apprezzare per la sua professionalità ma soprattutto per le sue qualità personali anche in questo caso l'arroganza del primo cittadino ha prevalso di fronte al buonsenso e così insieme sulla scia ci sono anche i sindacati che fanno quadrato contro la defenestrazione di Galdenzi Polizia Municipale e di Stato contro di lui dicono solamente accuse del tutto infondate non può che essere dunque unanime il sostegno alla decisione del comandante nonostante punti di vista diversi il comandante si è sempre mostrato professionale disponibile per le sue capacità e senza mai arrivare ad uno scontro non dimentichiamoci che le accuse mosse per i mancati controlli della polizia locale sono infondate e non imputabili agli agenti anche il resto del Carlino ovviamente su questo argomento titola il comandante Galdenzi lascia non c'è più il rapporto di fiducia dice lui il sindaco Ricci lo aveva accusato su Facebook di non aver controllato i balli in spiaggia il 15 scorso ricordandogli che invece aveva multato i bagnini l'anno scorso per le feste notturne e quindi nei confronti di Galdenzi tanta solidarietà Gianni Galdenzi 54 anni comandante per 10 anni della Polizia Municipale di Pesaro non ne vuol più sapere di vestire la divisa ha chiesto di fare altro non ha sopportato né accettato le accuse di essere stato responsabile dei mancati controlli in spiaggia durante il ferragosto accuse che gli erano state rivolte via Facebook dal sindaco Matteo Ricci beh è chiaro che qui stiamo parlando di un uomo che veste una divisa quindi un uomo di per sé delle istituzioni che si sente ripreso attraverso che cosa? non una lettera, una cosa formale, una cosa quindi istituzionale ma attraverso Facebook che di istituzionale non c'è niente perché è il nulla, è il bar delle chiacchiere il nulla del nulla ecco bravo Gianni Galdenzi andiamo avanti a 16 anni rapinavano i coetanei arrestati i capi di una baby gang siamo sempre a Pesaro altri 4 giovani sono indagati a piedri libero la specialità dei due baby bulli era terrorizzare le vittime prescelte sono gli stessi che avevano colpito in piazzale Matteotti e anche al campus però li hanno arrestati perché non c'erano alternative sono due sedicenni due sedicenni di Pesaro se pensiamo che sei anni fa andavano all'asilo questi ragazzi cioè neanche quindi ieri l'altro ieri sei anni fa andavano all'asilo oggi sono baby gang sono dei teppisti pensate in sei anni quante cose possono cambiare che poi certamente poveretti insomma non è neanche solo colpa loro ma comunque sono stati portati in carcere quindi sono finiti in un carcere minorile a Bologna sono accusati di aver messo a segno almeno da febbraio scorso quattro colpi e danni di cinque coetanei quindi altri sedicenni oltre ad averne tentati molti altri quello più eclatante in piazzale Matteotti il 10 febbraio scorso quando aggredirono un sedicenne rapinandogli 120 euro dal portafoglio i soldi che gli erano rimasti in tasca dalla gita scolastica da cui era appena rientrato andiamo sulla pagina del Corriere Adriatico perché c'è la questione non solo sui banchi di scuola ma anche di come far arrivare gli studenti a scuola e quindi si sta ragionando sulle proposte di farli viaggiare in sicurezza soprattutto perché il problema è solo questo abbiamo quante volte denunciato anche con dei video che sono arrivati qui in redazione i viaggi delle sardine i viaggi tutti stretti appiccicati con uno che alita sulla testa del vicino o sull'orecchio del vicino bene al vaglio c'è adesso la possibilità di questi rientri pomeridiani negli istituti interessati oppure di uno stop alle lezioni in classe un giorno alla settimana e quindi fare dei turni chiaramente sono soluzioni che magari non faranno fare i salti di gioia agli studenti in primis che sono i destinatari di questi cambiamenti ma anche certamente ai genitori ma comunque ancora è tutto in divenire papà vicini alla mamma mentre durante il parto c'è l'ok da parte di Marche Nord che è una delle cose più belle stare praticamente nella parte dietro e vedere insomma vedere nascere il proprio figlio ecco e quindi a Marche Nord costruisce costruisce questo nuovo percorso tamponi di sicurezza alla coppia nella 38esima settimana poi è possibile frequentare l'area a seguito dell'evento molti hanno deciso dice Claudio Ciccoli che abbiamo intervistato ieri c'è un approfondimento molto interessante che vi invito a seguire sul nostro canale subito dopo il telegiornale molti hanno deciso per le limitazioni che imponevano di andare a Urbino oppure a Senigallia mentre c'è questa 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 testimonianza di Carla Naclerio 34 anni campana da 9 anni infermiera all'ospedale di Pesero Marche Nord balli a gogo noi ci siamo tenuti lo scafandro per ora ecco un'altra che giustamente si arrabbia questa infermiera che se la prende con chi mentre lei investiva lo scafandro erano mezzi nudi a ballare in spiaggia in realtà è bene ed è giusto pensare anche a quelli che quelli che quelli che non stanno in spiaggia con il drink ma sono lì a difenderci a curarci rischiamo di tornare a dover respirare per ore la stessa aria calda dentro una mascherina dice questa infermiera pensiamoci Santa Croce del vecchio al contrattacco siamo sulla pagina di Fano del resto del Carlino la replica a Marta Ruggeri come amministratore non ho mai e dico mai fermato votato documenti contro l'ospedale sul fronte sanitario Fano cittadeale ritiene che vada abolito il protocollo tra comune e regione poi sotto invece guardate questa fotografia non so quanti di voi lo conoscano questo dj si chiama Gio T. Vannelli che ieri ha dato spettacolo per chi piace insomma questo tipo di musica e di iniziative spettacolo sempre su Facebook con una pioggia di like per questa diretta questo dj che sta facendo un giro per l'Italia 20 città italiane di particolare valore paesaggistico fa delle dirette dove suona della musica e pare che abbia molti contatti addirittura qualcosa come un paio di milioni di contatti ogni volta che fa queste uscite il giovedì e l'ha fatta questa volta questo dj ha scelto Fano è salito su un carro è stato messo al Pincio con lo sfondo dell'arco d'Augusto poi ha utilizzato anche un drone quindi ha sorvolato un pochettino i giardini del Pincio e ha fatto vedere a tutte queste persone collegate sulla sua pagina Facebook le bellezze del sito del Pincio e quindi l'arco d'Augusto quando Cagli tornò ad essere libera il 22 agosto del 1944 l'esercito alleato entrò nella cittadina mettendo in fuga i fascisti e i tedeschi i ponti strade acquedotti ferrovia i tedeschi in ritirata avevano distrutto ogni infrastruttura ma è un po' il modo superandi anche a Fano avevano minato e buttato giù tutti i campanili mentre c'è una rete poco protettiva intorno alla chiesa di San Filippo siamo a Fossombrone per evitare la caduta di pietre è stata messa lì però oltre dieci anni fa ma presenta adesso buchi molto pericolosi quando sul Metauro invece scorreva la storia d'Italia Montemaggiore rievoca la battaglia dell'agosto 1944 iniziative per celebrare uno dei luoghi più illustri nello sfondamento della linea gotica a Urbino invece il comune annulla la festa dell'Aquilone il sindaco Gambini dice ci sono troppi pericoli per il virus non possiamo rischiare Ubaldi che è il capo delle contrade invece assicura faremo solo un lancio dalla fortezza l'università tra le prime ottocento lo certifica un ente Shanghai esaminate i 20.000 Atenei e quello urbinate sta salendo di posizione l'anno scorso si era classificato entro i novecento e ancora siamo allo sport e quindi in chiusura la nostra rassegna stampa il Fano tessera Lorenzo Santarelli aspettavo questo giorno da anni mentre la Vis Stramaccioni ha convinto Galderisi la VL Filloi salta sulla barca adesso si vola e Valentino Rossi l'incidente non mi ha fatto cambiare idea nel 2021 correrò e anche noi stiamo correndo è tardissimo ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale arrivederci a